ciao a tutti ragazzi come va come sempre qui agonista benvenuti in un nuovo video e oggi come a titolo come al solito andiamo a parlare di come è andato il mio community day raga vi assicuro che è un community day molto strano nel senso che avevo iniziato a fare un attimo una bloggata per vedere se riuscivo a girare la situazione vi lascio un attimo uno spoilerino quando a beccare i lovers gamers oggi video diverso dal solito community day facciamo un giretto insieme fiori magari mi porto vediamo un po come funziona la situazione registrazione non sai anche come viene l'audio però niente così fiori dai oggi si viaggia c'è anche arghito baby come vedete appunto era iniziato descrivendo cosa stavo facendo eccetera avevo preso il treno con arghito baby e volevo fare una bella situazione perché andavo ad incontrare lovers gamers che raga vi lascio il link in bio al loro canale e li ho beccati per fare community day insieme per beccarsi per conoscerli visto che abitano nella mia stessa city purtroppo raga poi mi sono preso così bene a parlare con loro eccetera ho fatto una situazione così bella che non mi è venuto più da far video non volevo che fosse sforzato il contenuto che doveva portare e quindi raga sono qui di nuovo sono andato anche in live con voi per fare tutto quindi oggi andiamo a vedere un po come è andata cosa abbiamo evoluto ovviamente chiedo anche a voi nei commenti di farmi sapere come vi è andato il community day detto questo vi ricordo anche che io ho un instagram dove porto aggiornamenti più veloci che nei video come ho detto prima vado in live su twitch raga porto pokemon go lotte go porto pokemon unite e altri giochi pokemon canonici e ovviamente ragazzi che abbiamo anche un gruppo telegram dove potete flexare i vostri shiny chiedere aiuti per quanto riguarda le lotte go e ovviamente potete fare i ride insieme a noi andiamo adesso ragazzi a fare in questo video veloce vi faccio vedere cosa ho trovato io rega andiamo subito su pokemon andiamo a vedere sulle ultime catture e andiamo a vedere i miei shiny ragazzi in tranquillità se volete vedervi un attimo la live potete ovviamente passare nel canale viola perché non posso utilizzare riprese che ho fatto il giorno prima per il giorno dopo quindi dato che questo video uscirà il giorno dopo non ha senso utilizzarle però c'è stata una bella situazione situazionale fiore ragazzi di cromatici andiamo subito a vedere quanti ne abbiamo presi avrà vinto canto o avrà vinto alola come vedete non ha vinto nessuno perché siamo 3 a 3 quindi 3 shiny per alola 3 shiny per canto tra l'altro che si compongono in modo molto interessante purtroppo nessuno aveva delle statistiche buone dunque ovviamente non li ho evoluti perché i miei interessi erano le caramelle al momento però abbiamo trovato questo sandlash che è un perfetto per la lega ultra dove ovviamente io non penso di portarlo a competere però è buono anche per la lega mega ovviamente a ombra artigli come mossa veloce andiamo subito a valutarlo è uno 0 14 15 quindi molto buono come sapete a me a casa tantissimo ragazzi sandlash normale è uno dei pokemon che mi piacciono di più proprio a livello sia di colori che di design che di tutto lui è prima i piumi mandano fuori di sta generazione come vedete a notte sferze come caricata andiamo a vedere la sua valutazione è uno 0 8 12 98 fioi mi pare di percentuale per la lega mega quindi molto buono ho evoluto anche un'ombra rega che però purtroppo non ha preso la legacy perché aveva ancora frustrazione ho provato a sbloccargli la mossa ve lo faccio anche vedere perché ho detto magari così la può apprendere invece purtroppo non l'ha potuto fare quindi niente racciatomba che comunque è utile per le lotte go aspettiamo aspettiamo e se vediamo che buildando l'altro per la lega mega sarà utile magari si investirà l'mt non penso però raga chi lo sa chiunque li utilizzi lega ultra chiunque li utilizzerai lega mega se gli va di mandarmi il set raga io sono qua li aspetto come sapete commentiamo aiutiamo i player giovani a crescere spero che questo mini spoiler del mio community day in cui abbiamo preso tutti i shiny scarsi eccetera vi abbia gasato io vi rinvito a seguire i lovers gamers che sono veramente simpatici portano bei contenuti e anche ovviamente a supportare il canale come volete anche solo con un commento raga bella lì fioi yo